wow 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 grandi amici del tubo ben ritrovati qui sul canale di swissimusi ragazzi oggi è un video particolare perché so che qualcuno di voi me l'ha già chiesto sulla pagina facebook e lo sta aspettando ma ieri o l'altro ieri è uscita su rocket league la modalità pallacanestro e volete che volete che non la proviamo cioè ma con chi spessate di stare a parlare dai 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 ho visto qualche video al riguardo sembra veramente figo ho fatto solo una partita ed è risultato molto più difficile di quello che pensavo quindi vedremo come andrà intanto andiamo alla prima partita subito il credito prima partita ragazzi 3 2 1 let's go ah ok adesso rimbalza la palla grande come si fa a fare quella cosa lì tattiche che non giocando da un po' ragazzi ho perso il tocco mi sa vabbè vabbè dai comunque siamo 2 contro 2 potete vedere questo è il campo da basket che è una gran figata c'è molto luminoso tutto figo bello il fatto è che è un gran casino fare canestro ho già visto proviamoci su... ma porca puttana se non mi dai dentro magari dai che buona nooo dove cazzo mi hanno tirato palla al centro che stai a dire guarda dove cazzo è andata che palla... no 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 bravo ecco vedete quello è il problema che è difficilissimo perché bisogna farla entrare da sopra nooo uh che culo merda no 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 dio nooo cazzo l'aveva quasi salvata il mio amico bene 1 a 0 sotto che bello sì sì così grande bel gol qua del mio amico non mi dà l'assist perché l'avevo toccata però l'avevo passata io lì eh vabbè boh ok vabbè comunque 1 a pari signori seconda metà di partita dai bello questo eh ciuff proprio spettacolare bella lì dei gristo dai 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 che siamo lì dai che siamo lì puttana su dai 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 sì 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 gol mio gol signori mamma mia c'è il gol calais per realtà perché c'è scritto gol non vedo come dovrebbe essere il gol mio perché l'ho toccata ah evidentemente l'ha toccata il blu lì e allora signori primo gol per noi mamma mia 2 a 1 andiamo in vantaggio uh 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 altro gol nostro doppietta in 10 secondi guardate qua in realtà cioè questo l'ho toccata l'ultima volta un'ora fa però poi loro due hanno pensato di fare questo che l'hanno mandata dentro 2 a 1 anzi scusate 3 a 1 doppietta per noi Mamma mia Mamma mia Eh si vede ragazzi che siamo forti a basket eh Si vede raga Oddio No No Bastardi Non ci credo Butta la via Oddio Oddio che salvataggio epico Oh madonna santa Oh madonna questo merita subitissimo Mi piace porca puttana Doppietta e salvataggio epico nel giro di 30 secondi Cazzo No No Ma che sfida Ma porca puttana Ma guarda Guarda che sfida Ma guarda che roba Boh Questo Ma dai Ma dai Ma guarda 3 a 2 Ma che riella madonna Ultimo minuto signori È il momento decisivo Vediamo se come l'NBA veniamo fuori nell'ultimo minuto Qui la mettiamo in mezzo per il mio amico Che Si 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 E infatti Troviamo l'assist Per il caestro del 4 a 2 Mamma mia Guardala lì Toc Di rimbalzo E la fa andare su Ciuff Perfetto signori 4 a 2 Adesso difendiamo il risultato Portiamo a casa la prima vittoria No 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 Che culo Che culo Allora la via Dai è 0 a 0 Carichi Oh no 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 Non può cominciare tu Guarda che roba che ho fatto tu Ma non doveva andare lì 1 a 0 1 a 0 per gli altri Solo di concentrarsi Di rimbalzo No Lamparata Oddio Uuuu Primoferro Palloretto ancora Primoferro ma basta Dentro No Cazzo Mia Oh no 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 Non per dietro No Che cazzo sta a fa Oh Bravo Ok Bravissimo Bravissimo Merda Oddio che si fanno autogol Dai butala dentro vecchio Primoferro ancora Ma basta Questa è buona Dagli è così Oddio Oddio Mamma mia Guardate questo Guardate questo Che numero Signor Ma Raga Se non lasciate un mi piace Ora veramente Avete capito un cazzo Ce ve lo dico Che go Che canestro è questo Tipo in sospensione Da 3 cadendo per terra Mamma mia 2 a 1 per noi Signori Il re di Rocket League Fate pure 3 a 1 Cazzo Cazzo si Altra doppietta per noi No prima ho fatto Non mi ricordo Mamma mia Ma che gol Che gol epico Ho fatto Ultimo minuto Signori Non facciamo cazzate Mi raccomando Perché qua Voglio vincere anche questa seconda partita Dopo questi gol incredibili Che ho fatto Ce lo meritiamo Tra l'altro E siamo ancora in attacco Per il 4 a 1 Dagli è che la butta dentro Non ho la parata Bastardo Adesso prendo la palla Ho l'avversario Ho preso l'avversario Demolizione Finisce così E diciamo Mamma mia Anche questa volta Sotto E poi si rimonta Doppietta Di sui simbiosi Che canestri Che ho fatto Paura ragazzi Paura Terza partita ragazzi Si parte Aspettiamo qua ormai Perché ho già capito Che non Madonna questi come volano Ho già capito Che non so farla Quella cosa Oh ma Oh Ma che cazzo hanno questi Peperoncino nel culo Prendila 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 Merda Mi ha anticipato Raga ho come l'impressione Che questi due Guardali Guardali A parte che secondo me Questi due Sono in squadra assieme No Non direi che fa canestri Che cazzo R2 di 2 Ma vaffanculo Da Star Wars È venuto fuori Questo Che cazzo di canestro Ha fatto Wow E beh Questi sono bravi Raga Mi sa E qua ce l'abbiamo dura Ragazzi 1 a 0 dopo 30 secondi Si No Cazzo Ho sbagliato Questo era facile Bastava tirarla dritta Ho fatto un disastro Occhio però che si fanno autogol Guardali Come corrono sui muri Ma Quante ore hanno giocato Questi a Rocket League Oh C'è un cazzo Altro da fare No Mi hanno fatto esplodere Il mio amico Merda Dai Prova a salvarla No Cazzo Eh raga Qua è dura 2 a 0 dopo un minuto E spicci Guardali L'hanno fatto anche esplodere Ti vindicherò Amico caro No No Ho già il terzo Ehi Calma qua Oh Qua rischiamo di prendere Una bella scopola L'ho mancata Ok Ma bastardi Guardali Quanto cazzo sono forti Questi Oddio No no Voglio vincere tutte e tre Ragazzi Perché so Che se ne vinco tutte e tre Lasciate 200 Mi piace Io ve lo dico Ve lo dico Subito Quindi voglio vincere Anche questa terza partita Oddio Lo scavetto Ah Il floder era Anzi più che lo scavetto Merda Oddio Ma che cazzo sta fa Madonna è pazzo quello Via da lì Madonna santa che sofferenza Sta partita No Che culo ho sbagliato Mamma mia Questo ho avuto culo Sì Oddio Oddio Di tabella Gran gol questo Mamma mia B 4L Guardali da metà campo Praticamente Anzi Dietro metà campo Boom Tabellata Alla Tim Duncan Con l'amico tabellone E via dentro 2 a 1 Siamo ancora vivi Beppe siamo ancora vivi Oh 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 Che culo Che culo Via da qua Ultimo minuto Via Via boccia Ultimo minuto Signori Possiamo Siamo ancora vivi Oddio 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 Sì 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 No Sì Sì Gol Gol Non la parate Sì così Assist mi ha dato Che l'ultima volta Che l'ho toccata Eravamo ancora Alla seconda partita Però va bene Due pari Signori Mamma mia La remontata Si riparte Signori 40 secondi da giocare Vediamo se veniamo fuori Un declatch Un declatch Qui sbagliano Attenzione Perché è buona per noi È buona per noi È buona per noi Sii Sii così Si così Si così Signori 3 a 2 3 a 2 Mamma mia Iuto Dov'è il divano? 3 a 2 Mamma mia La remontada Che gol Che errore da parte loro Più che che gol mio Adesso difendere Signori Difendere Dovrei dire che canesto Però ogni volta dico che gol Perché sono abituato a fare gol In questo cazzo di gioco Madonna Cosa ho rischiato lì Nostra, nostra merda, merda No, 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 no Girati! Girati! Ok, dov'è il mio amico? Là, ok, in porta Bravissimo, bravissimo, mi caressano In porta 10, primo ferro Dai che l'abbiamo vinta, dai che l'abbiamo vinta Butta la via, amico, ben fatta, così Fagliela, che non la prendano Sì, sì Sì 3 a 2 Terza vittoria in fila Per Switching Music Mamma mia, signori, che partite? Torniamo Al menù principale, affalculo 3 vittorie su 3 Non so quanti gol, penso di aver fatto 2-4 5 gol in 3 partite, assi sparate Epiche di tutto, signori Io spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate tanti mi piace perché Vi vorrei portare altri mi piace Non lo so, lasciatene quanti volete Ma questo video ne merita veramente una valangata Proprio po 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 Così, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale In descrizione ci sono tutti i miei social Pagina Facebook, profilo Instagram E gruppo Telegram Dove vi arrivano tutte le notifiche Sempre e comunque dei miei video YouTube E ci vediamo nel prossimo video Bella